Musica Miriam Migliorini che è qui, pronta Miriam metterà in atto in scena una performance di danza acrobatica ispirata alla luce non poteva essere altrimenti in un contesto che vede una mostra che si intitola Lumière due punti luce, quindi non poteva essere altrimenti lei è stata appunto coreografa di questo che metterà in scena stasera di questa performance che metterà in scena, è fatta ad hoc questa mostra quindi è assolutamente inedita, possiamo dire Lumière appunto, è appunto il titolo Lumière Luce e fa parte appunto di un gruppo che è il gruppo Ensemble di Codogno che si occupa appunto di danza acrobatica e di fitness io lascerei appunto la parola, la parola, la gestualità artistica diciamo alla nostra carissima Miriam dopodiché ci rivediamo ancora qui per mostrare, per parlare ovviamente brevemente dei nostri artisti che sono qui presenti, grazie applausi Grazie a tutti Don't leave your zone, tell you I'm going, no, no, no Let me drive Don't leave the crowd, can't believe I'll teach you Don't leave the crowd, can't believe I'll teach you Don't leave the crowd, can't believe I'll teach you Don't leave the crowd, can't believe I'll teach you Don't leave the crowd, can't believe I'll teach you Grazie. Grazie. Grazie.